il primo trattamento del metodo beauty slim quello che segue subito alla raccolta delle informazioni in fase di consulenza è quello che io chiamo trattamento conoscitivo è un momento molto importante perché un vero trattamento apripista che mi permette di conoscere il tuo tessuto e di vedere come reagisce il tuo corpo e durante questo trattamento che vengono alla luce inoltre i blocchi i problemi che ci possono essere a livello microcircolatorio a livello linfatico o a livello posturale a me serve inoltre per determinare il tuo abitus e per capire da quanto tempo sono presenti quei ristagni e stabilire la durata del percorso ovvero il tempo che occorrerà per risolvere il tuo problema a te servirà per conoscere le nostre manualità e il nostro metodo di lavoro il nostro primo trattamento è già un trattamento completo e combinato che ti darà fin da subito dei grandissimi risultati è una una grandissima sensazione di benessere e di leggerezza perché se è vero sì che stiamo parlando di un trattamento prettamente tecnico non tralasciamo mai nella messa appunto dei nostri protocolli l'importanza del benessere della coccola